o la vediamo un po oggi cosa cosa accadrà io modestamente un po di paura ce l'ho vabbè giappone breve cosa è successo no ita si taglia la prima curva italia la prima curva si vola ragazzi cosa roba di cegna oh no ita allora ha disattivato l'audio di tutti si ok siamo pronti la prima curva del gran premio d'italia le prime due curva sono molto contenti adesso fa caldo e fa anche pulso di bruciato eh non so se non ci posso guardare una cosa lascialo togli la spunta centrale per favore a noi conviene perché non partiamo davanti e quindi se si ammazzano sono cazzi a noi conviene perché non partiamo davanti e quindi se si ammazzano sono cazzi giusto giusto cerchiamo giusto di prendere un po di confidenza le facciate che ne abbiamo più da un po di bisogno qualifiche completate va bene dai ascolta non è non era il nostro obiettivo non devo fare bene ma le qualifiche allora lo scopo è sopravvivere alle prime due curve dopo di che la gara è vinta non ho nessuno dietro che bello che bello che qui una volta ho fatto una gara hanno preso pom ma l'ho buttato proprio fuori senza neanche passare dal via per puro spirito sportivo bella quella livrea però cazzo aspetta bellissima quella ma è premium non penso sia premium altrimenti non credo starebbe qui con me ho come l'impressione che ci siano tanti italiani in questa lobby non so perché ci siamo? ci siamo? siamo pronti? siamo calchi? qua ok? siamo partiti? va bene siamo interi ma come collisione avvertimento collisione bandiera gialla vedo la gente morta piano 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 vabbè ma è è bellissimo gioco è bellissimo questo gioco andrebbe giocato solo per la prima parte di gara per il primo giro ok è un buon inizio continua così madonna madonna che paura fuggi 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 forzala bravo così pulito 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 e via e via e via che si spinge e via che si vola la sto facendo con calma perché non voglio rischiare più di quanto non devo voglio dire il terzo posto va benissimo l'importante è non prendersi penalità o cazzate varie di secondi che ci potrebbero far comodo per mantenere la posizione io ho frenato troppo mi sono distratto dai spingi forte benissimo finora questo è il miglior tempo un altro giro veloce la madonna vai 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 eh riuscire ad arrivare terzi non sarebbe male considerando che siamo partiti per ultimi ahhh al limite questa ti prego luca basta che non fai cazzate se non fai cazzate e non ti areni da qualche parte potremmo avere la terza piazza e forse la seconda quindi se vuoi spingere spingi ma spingi in modo intelligente bella questa terza piazza bella questa chicane se posso spingere? si direi si direi 1.23.320 bella vai 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 eh il primo sta scappando chissà eh chissà che il primo è un buon vantaggio sulla vettura che ti segue gli rifili qualche secondo a giro purca eh questa non è invece non sono uscito benissimo vai 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 siamo usciti da signori alla primatura prima chicane il distacco dalla vettura che ti precede è 2.6 secondi va bene basta basta cazzate perché ho già visto un paio di cose che non mi sono piaciute quindi si spingono a fare intelligenza se si auto esplode si va a esplodere quello davanti ne approfittiamo altre 23 secondi di vantaggio non ha senso andare andare a rischiare di buttare via una terza posizione eh no il distacco eh ma non mi hai detto quanto ho il distacco da quello davanti adesso è così vicino maledizione sei all'ultimo giro è così vicino però non ha senso rischiare ovviamente si spinge perché non voglio voglio comunque un minimo provarci ma non ci voglio provare dentro a 4 campi anche perché non lo raggiungerei rischierei solo di farmi dare delle penalità che per non guadagnare niente niente non ha sbagliato è stato bravo mettiamo la standard perché se no non arriviamo a fine gara eh lo fuori vedete a forzarla poi si rischia di fare cazzate come questa quindi è andata bene così madonna abbassata ancora ma è fortissimo ha fatto 1.22 va bene terzo posto ci sta per 12 secondi a quello dietro secondo come secondo aspetta aspetta si 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 ha preso un botto di penalità quindi no non ho capito aspetta non 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 mi è chiaro come è possibile perché sono arrivato secondo infatti vediamo un attimo il direttore di gara che cazzo ha fatto Vabbè Limiti della pista Non ho capito dove si è preso Ah 10 secondi